Ma è così tante medaglie per l'Italia alle Olimpiadi, la soddisfazione del presidente del CONI Malagò nell'intervista degli inviati Giorgia Cardinaletti e Marco Sanga. L'Italia dei record, 40 medaglie. Io me l'ho sempre esposto, ho detto che avremmo fatto meglio di sempre, quindi eravamo a 36, io pensavo di arrivare a 39, ho fatto anche mio diciamo di cabala, chiamiamola così. Sì, ma questo valevamo perché io ho sempre sostenuto una tesi che avevamo tante frecce che potevano andare a segno. In rappresentanza di tutte le regioni d'Italia. Sì, qui c'è una storia curiosa, in questa delegazione, la più numerosa di sempre, però per la prima volta tutte le regioni e le due province autonome erano rappresentate da qualche d'uno. E in più, attenzione, noi avevamo all'interno cittadini italiani provenienti da tutti e cinque i continenti. È un'Italia multietnica, è un'Italia integrata, è un fatto statistico. Come fare ora per non disperdere tutto questo? Lavorando, partendo da quello che è andato meno bene e consolidando quello che è funzionato. L'Atletica è successo quello che nessuno poteva immaginare, ma tante, tante medaglie, d'oro, d'argento e di bronzo, le abbiamo perse, dove eravamo favoriti, proprio per le imprevedibilità. Queste Olimpiadi hanno sicuramente con questa loro, diciamo, atipicità, diciamo, determinato alla fine un prodotto, un'immagine, un risultato finale che ha entusiasmato tutti. E allora...